guarda che furgatorio se volete passare dovete chiedere a tutti va bene chiediamo a te ci pensi tu non passerà però abbiamo una strada alternativa lì c'è lì una strada alternativa ora da qui è fatta da qui è fatta ma che bella che è vabbè è giusto che si sciglie tanto poi lo puoi ma possiamo farci aprire grazie